ciao a tutti ragazzi oggi andiamo avanti con un nuovo episodio di the sims 4 oggi ho da farvi vedere tantissime cose e sono anche un po emozionata perché ci saranno tanti cambiamenti nel gameplay come vedremo e intanto una prima novità è che ho il microfono nuovo quello di cui vi avevo parlato nello scorso vlog se qualcuno di voi mi aveva seguito quindi ho sistemato tutto l'ho configurato ho già anche fatto delle prove quindi diciamo che questa è la prima registrazione con il microfono nuovo e quindi non ho idea di come verrà ancora spero insomma che riesca bene e che comunque in generale la qualità la qualità audio migliore insomma quindi partiamo subito perché oggi ho tantissime cose da farvi vedere allora come vedete oggi cominciamo con una schermata su new crest e vedete qui abbiamo insomma abbiamo tutto il nostro bel quartiere che poi finiremo e completeremo perché abbiamo ancora due lotti da riempire e quindi diciamo che è molto evoluto comunque da quando abbiamo cominciato il gameplay con una simona conti ancora giovane di belle speranze che tutta sola soletta si trasferiva nel suo qui covo comodo quindi perché cominciamo qui perché oggi diciamo che è un giorno molto importante di tanti cambiamenti per la famiglia conti infatti nello scorso episodio abbiamo visto diciamo che abbiamo concluso lo scorso episodio con daniele e la nostra amica valeria che passavano di età e diventavano adolescenti e non vedevo l'ora che succedesse tutto questo perché ho un bel progetto in mente per i nostri adolescenti infatti se noi andiamo qui a gestire unità familiari vi faccio vedere ecco qua c'è qualcosa di diverso come vedete allora michele e simona insieme alla bellissima kimber sono una unità familiare a parte e ho creato due nuove unità familiari una con gabriele e già cresciuto daniele di cui ancora dobbiamo vedere il look perché glielo ho cambiato nello scorso episodio non l'abbiamo visto ancora il suo cambiamento di look da adolescente e un'altra unità familiare con le nostre amiche di infanzia ormai di una vita laura e valeria con la nostra valeria anche lei è cresciuta e col cambio di look che vi farò vedere e non solo c'è anche una pelusona qui in collo a laura perché è proprio una gattona di laura e adesso non vi preoccupate l'andremo a conoscere meglio allora perché ho creato queste due unità familiari in realtà queste due unità familiari ognuna del valore di 20.000 simoleon andranno adesso ad unirsi perché i nostri quattro ragazzi diventeranno coinquilini perché perché allora io sento una forte mancanza in questo The Sims 4 mancanza che spero presto verrà come dire colmata dal dagli sviluppatori del gioco ovvero l'espansione riguardante l'università è una cosa che vorrei tantissimo anche perché in The Sims 3 non ce l'avevo però l'ho vista giocare ed era veramente bellissima e quindi diciamo che anche se non abbiamo l'espansione ho deciso comunque per i nostri ragazzi di fare qualcosa di diverso visto che comunque gli adolescenti possono andare a vivere da soli senza comunque avere necessariamente un adulto nell'unità familiare ho deciso di creare appunto una loro unità familiare a sé stante loro diventeranno coinquilini e saranno diciamo studenti fuori sede ovvero che cos'è uno studente fuori sede per chi non lo sapesse quando ci sono persone che vanno all'università fuori dalla propria città natale quindi magari vanno a studiare lontano dalla propria città talmente lontano da non poterla magari raggiungere facendo il pendolare prendendo il treno l'autobus e la macchina tutti i giorni perché magari appunto ci sono tanti chilometri di distanza chilometri che non sono percorribili tutti i giorni facendo avanti e indietro e allora lo studente fuori sede è quello che quando nel periodo in cui è a studiare all'università prende in affitto una casa lì in loco e vive lì e di solito appunto vive con coinquilini che di solito sono altri studenti o lavoratori come loro che chiaramente non possono magari permettersi di pagare un affitto per intero in una casa per intero perché sono poveri in canna perché studiano perché lavorano però insomma magari appunto non fanno lavori che hanno stipendi tali da potergli far mantenere l'affitto di una casa intera e quindi convivono con altri coinquilini con i quali appunto smizzano l'affitto di una casa con tutte le varie conseguenze del caso quindi i nostri ragazzi andranno a studiare fuori diciamo che se vogliamo sarà un misto tra insomma un college un'università comunque andranno a studiare fuori casa e prenderanno una casa in affitto insieme diventeranno tutti gli effetti coinquilini sotto lo stesso tetto e quindi io intanto procederei subito con l'andare a creare quindi l'unità familiare quindi prendiamo le mie unità familiari ecco qui e uniamo tutte e tre le ragazze con Gabriele e adesso però gli voglio anche cambiare il nome perché non è giusto che sia Conti perché abbiamo Conti, Bjergsen e Faires che sono i cognomi di anche Valeria e Laura rispettivamente guardate lei è bellissima ora la conosceremo nel dettaglio e quindi io direi di chiamare la nostra famiglia proprio i fuori sede direi che si addice ecco fatto i nostri i nostri fuori sede sono pronti per trasferirsi e dove si trasferiranno adesso vi faccio vedere subito quindi dobbiamo lasciare la nostra amata a Newcrest e ovviamente andiamo a Samaishuno eccoci qua allora per chi insomma ha seguito anche altre cose che ho pubblicato sul canale e che insomma avevo anticipato anche su Instagram perché mi seguivo anche su Instagram qualche diciamo un paio di settimane fa rispetto a quando c'era questo episodio ho pubblicato uno speed build che se non avete visto non vi preoccupate vi lascio giù in descrizione il link così se siete curiosi potete andate a vederlo perché questo speed build riguardava proprio la ristrutturazione di un appartamento e in particolare la residenza Cool Pepper 19 ovvero questa qui siamo vi faccio vedere nel quartiere delle Spezie che è bellissimo insomma dove ci sono però appunto gli appartamenti quelli più poracci va bene quindi io ho preso uno dei più poracci di tutti l'appartamento Cool Pepper di cui vi faccio vedere le caratteristiche quindi questo è un appartamento da ristrutturare dall'affitto decisamente ragionevole con un balcone spazioso ed è un ottimo posto dove esercitare le proprie abilità di manualità ovviamente la struttura originaria di questo appartamento non era questa era molto era proprio vedete lo stile di questi era ancora più fatiscente comunque se andate a vedere lo speed build che vi lascio anche giù lì faccio proprio vedere com'è l'appartamento originale prima di appunto ristrutturarlo quindi io appunto l'ho già come dice la descrizione è da ristrutturare e quindi io l'ho ristrutturato ovviamente per ristrutturare si intende anche che ci sono molte cosine che ci daranno problemi che si romperanno perché questo significa l'appartamento il tratto dell'otto da ristrutturare che ci sono cose che poi vedremo nel dettaglio tanto che sono tutte sempre da sistemare e che ci aiuteranno a sviluppare anche l'abilità di manualità è un appartamento che per come ho sistemato è apparentemente bellino e nuovo ma in realtà diciamo che nasconde delle magagne ok quindi intanto andiamo a trasferirci quindi il valore totale è questo qui quindi abbiamo arredamento questo più affitto settimanale 550 quindi con i fondi che noi abbiamo accorpando le due famiglie siamo a 44.000 io è per questo che ho creato queste due famiglie separate e poi le accorpate giusto per darci lo stretto indispensabile per poter quindi prendere in affitto questo appartamento poi per tutto il resto i nostri cari studenti fuori sede dovranno darsi da fare e guadagnarsi l'affitto da pagare quindi vedete abbiamo proprio insomma un po' lo stretto indispensabile per sopravvivere inizialmente anche più dello stretto indispensabile in realtà quindi lo prendiamo ammobiliato e quindi ci trasferiamo affittiamo l'appartamento ed eccoci qua quindi abbiamo creato la nostra nuova unità familiare prima di cominciare a giocare c'è anche alcuni aspetti del gioco alcuni cambiamenti che ho fatto che vi voglio far vedere vi faccio vedere subito se andiamo alle opzioni di gioco allora se vi ricordate noi finora avevamo impostato la durata della vita del sim su lunga ok infatti loro vivevano tantissimo perché inizialmente avevamo detto avevamo detto impostiamo la vita su lunga così facciamo tutte le cose con calma ci siamo appunto gustati tutto lo sviluppo di carriera di simone poi di michele la loro aspirazione eccetera eccetera però adesso col fatto che appunto cominceremo a gestire più unità familiari e quindi insomma dedicheremo episodi prima all'uno poi all'altra per anche diciamo dare a me diciamo una percezione più oggettiva del tempo che scorre ho preferito mettere appunto la vita su normale come vedete chiaramente ho lasciato il passaggio di automatico soltanto per i sim usati in gioco e l'ho disattivato per quelli non stati in gioco in modo che appunto se oggi controlliamo i nostri fuori sede non è che nel frattempo la famiglia conti con michele e simona mi va avanti di età ma l'avanzare di età si frizza in modo che non è che me li ritrovo anziani da un giorno all'altro ma avanzano di età semplicemente quando io ci vado a giocare l'ho fatto appunto perché almeno così con la vita lunga alla fine decidevo io molto arbitrariamente quando farli passare di età però adesso ho un pochino l'esigenza appunto anche per ritmi di gioco eccetera di avere un pochino il gioco che mi metta un po' di pressione diciamo così o comunque mi ricordi che effettivamente a un certo punto non possiamo fare 50 episodi sempre su dei ragazzi adolescenti o su degli adulti ma comunque volevo dare un attimino un'accelerata allo scorrere del tempo visto che appunto adesso i tempi si dilateranno ulteriormente visto che gestiremo e controlleremo più unità familiari e quindi questo è un pochino quello che vi volevo far vedere ok quindi era solo una parentesi va bene comunque bando alle ciance e andiamo subito a giocare quindi con i nostri fuori sede ed eccoli qua già schierati e compatti e sto guardando che c'è Daniele che sta già puntando Valeria va bene perfetto dunque ed ecco qua anche la nostra gattona che adesso vi presenterò e in realtà state già ammirando il loro look i loro abiti estivi perché sto guardando che qui a San Maishuno oggi va bene siamo al terzo giorno d'estate come in tutto il mondo sim è parzialmente nuvoloso e la temperatura è rovente quindi loro sono molto accaldati quindi questi sono i loro abiti estivi adesso vi faccio vedere tutto il cambio di look insomma oggi è un po' una puntata di presentazione diciamo è una intro per questo gameplay nel gameplay diciamo allora e tra l'altro appena arrivati già la padrona di casa ci ha ricordato di non dimenticare di pagare l'affitto in tempo quindi andiamo subito a prendere possesso del nostro appartamento io prima di costituire l'unità familiare gli avevo già fatto prendere un giorno di vacanza da scuola vedete sono tutti in vacanza a parte lei che andrà comunque a lezione tra due giorni perché è passata di età dopo la mezzanotte perché comunque stiamo riprendendo esattamente dalla mattina seguente alla sera del compleanno di Daniele e Valeria quindi vedete in vacanza e in vacanza perché diciamo che oggi è un po' una giornata di assestamento sì non fate caso al triste perché nel cambiare l'unità familiare avevo interrotto l'evento festivo della festa di compleanno e nell'interrompere l'evento festivo mi aveva tipo annullato i progressi che avevano fatto quindi c'è un po' questa cosa del festività terribile a parte solo Daniele che è l'unico felice che evidentemente gli ha tenuto in memoria le attività svolte gli altri non so perché me li ha tutti insomma annullati comunque entriamo in casa dicevo prendiamo subito possesso del nostro bellissimo appartamento di cui adesso vi faccio fare un bel mini tour allora entriamo da qui quindi appena si entra ecco qua questa è la zona giorno quindi qui c'è l'ingresso allora qui subito a sinistra abbiamo la cucina vedete qui ho messo qui nell'ingresso ho messo sia l'appendi abiti aggiunto con stagioni sia il porta ombrelli che il termostato poi qui abbiamo appunto la zona cucina con un tavolino e tutto lo stretto indispensabile ho messo anche un allarme antincendio perché sai non credo che tra tutti abbiano questa grande abilità di cucina sviluppata e anche un microonde perché comunque ci sta che lo studente fuori sede si faccia molti pasti precotti e una macchina del caffè non proprio nuovissima perché insomma per rendere il tutto realistico una piccola libreria qui c'è la zona salottino ho messo anche un caminetto e qui c'è invece appunto la zona salottino con appunto la televisione una console per videogame l'ho fatto un po' così col puff un po' stile molto colorato e da studenti come appunto vi avevo detto appunto nello speed build cosa mi sono dimenticata di accennarvi prima che appunto vi avevo anticipato che questo appartamento sarebbe presto e anche su instagram vi l'avevo detto che sarebbe apparso presto nel gameplay e avevo anche un pochino sfidato a indovinare chi sarebbe venuto ad abitare qui qualcuno ha indovinato qualcuno in parte qualcuno no però insomma alla fine ecco ho svelato il mistero e comunque avevo anche detto che avevo disseminato diversi indizi che ora andremo a vedere qui insomma comunque ho messo una scrivania col computer e qui non so perché mi ha tolto le tende che avevo messo ok tende sistemate allora quindi come vi dicevo questo appunto è il salottino e qui ho messo una scrivania col computer che insomma può servire un po' a tutti adesso andiamo un po' a vedere le varie invece stanze cominciamo da questo lato qui quindi da questa parte si accede alla camera delle ragazze chiaramente loro nel senso sono amici non stanno insieme quindi facciamo per ora una stanza per le ragazze e una stanza per i fratelli chiaramente quindi questa è la loro camera quindi come colori ho usato i colori di Laura e Valeria Laura predilige il giallo Valeria predilige più l'azzurro poi con qualche punta di rosa ok in generale però vedete prevalentemente diciamo che infatti questa è la zona di Valeria quindi eccola qui quindi molto simmetrica molto standardizzata l'ho fatta appunto come delle classiche camere da studenti quindi uno specchio una scrivania un letto un comodino e qualche decorazione un cassettone in comune per entrambe con i dettagli con qui una bella pianta e insomma qualche cosina per il trucco e queste lampade nuove che mi piacciono tantissimo usate con stagioni anche la tenda di stagione insomma vedrete che molti dettagli sono chiaramente presi un po' dalle cose aggiunti con l'espansione di stagione di qua invece c'è la zona di Laura quindi anche qui scrivania letto varie decorazioni e chiaramente la cuccia e un giocattolino per la nostra gattona che adesso vi andrò a presentare qui si accede loro hanno il loro bagnetto diciamo dal quale si accede direttamente alla camera che è questo qui l'ho ricavato io nella struttura originaria questa era un'unica stanza studio e io siccome era molto grande ci ho ricavato sia una camera che un bagno perché con un bagno solo in quattro diventa complesso quindi qui c'è la sabbietta rigorosamente non elettronica ma da pulire a mano perché loro si dedicheranno a tutte le attività appunto da studenti poracci che devono fare tutte le cose le pulizie quelle cose che non funzionano insomma sarà proprio il classico stile di vita in città con appartamenti poracci appunto da buoni studenti squattrinati quindi una vasca da bagno e poi un lavandino insomma i due accappatoi gli asciugamani mobiletto insomma molto basic anche perché poi mi sono tenuta nel budget appunto a una insomma sui 40.000 simoleon che era appunto una casa starter per per quattro persone insomma diciamo quindi poi qui andiamo sulla terrazza ho scelto volutamente questo appartamento che comunque guardate la vista non è male comunque anche da da qui è il quartiere appunto quello più più popolare diciamo questo ma nel senso positivo del termine da lì si vede anche il mono insomma è un po' una vista sugli appartamenti però appunto mi interessava la terrazza perché con Laura come avrete intuito visto l'aspirazione che le ho messo che è proprio quella inerente al giardinaggio voglio proprio dedicarmi con lei al giardinaggio e cominceremo a svilupparlo già proprio da adolescente e quindi ho riempito questa terrazza di vasi nei quali andremo a piantare tante belle cosine e qui ho messo il tavolino per fare le creazioni floreali perché appunto con lei voglio approfondire questa attività come già vi ho detto io sono molto felice che con l'espansione di stagioni abbiano ampliato proprio l'attività di giardinaggio perché nella mia testa già io avevo in mente ma già tipo da quando è nata avevo in mente con Laura di dedicarmi proprio appieno a questa attività con lei e poi lo vedremo nel dettaglio quindi proprio potete immaginare la mia somma gioia quando è uscita questa espansione con queste novità qui c'è anche un tavolino dove accomodarsi e una grigliettina insomma per insomma stare anche un pochino fuori un terrazzino piccolo ma confortevole c'è tutto anche qualche piantino di decorazioni ok quindi questa è la zona delle ragazze diciamo poi andando di qua invece dall'altra parte abbiamo da questa parte la stanza invece dei nostri fratelli eccoli qua ed è qui diciamo che avete qualcuno di voi appunto ha intuito chi in parte chi sarebbe venuto ad abitare perché appunto vi ho messo un po' di indizi in realtà i miei indizi erano anche riguardanti tutte le cose del gatto però su quello non vi siete tanto soffermato c'è chi insomma si è soffermato sui colori su alcuni oggetti però quella cosa lì non è stata tanto notata effettivamente comunque allora quindi c'è insomma un po' un mistone i loro colori sono rosso e verde insomma ci sono anche un po' di tocchi di azzurro chiaramente non è che andiamo a fare monotematico non è la non so berry challenge questa ragazzi è comunque un gameplay quindi possiamo un po' fare come ci fare allora qui ho fatto è più piccolina la stanza questa ho ottenuto le strutture della cameretta che c'era originariamente come dimensioni quindi c'è anche qui un cassettone in comune i due letti questo sarà quello di Gabri e questo sarà quello di Dani e qui io invece ho messo invece di due scrivanie ho messo insomma questo tavolo unico con due sgabelli dove poter mettersi comunque a fare i compiti e tutte le cose con magari una bacheca dove adesso mettere magari qualche foto e qui dal lato di Gabriele come potete vedere ho messo anche il tavolo chiaramente sempre quello più vedete rotto consumato sfigato per cominciare a fare proprio i farmaci perché come avete capito con Gabriele voglio intraprendere poi la carriera veterinaria quando sarà adulto però lui comincia adesso all'università proprio a studiare per diventare veterinario e quindi comincerà proprio esercitandosi anche facendo pratica con il laboratorio dei farmaci che ci consentirà anche di fare qualche guadagno extra così come Laura con le sue creazioni infroreali ci consentirà di fare qualche soldino in più qui invece c'è la zona di Daniele con tutte le sue cose a tema astronauti che era l'altro indizio adesso invece usciamo andiamo a vedere l'ultima stanza io intanto vi faccio notare che qui c'è una tana per i topi che era nella casa qui c'è anche qui in camera delle ragazze c'è un'altra tana per i topi quindi sarà molto interessante qui all'ingresso vedete questo quadrante elettrico è anche una cosa presente nella casa che sono cose che non si possono togliere anche se uno vuole uno la casa se la deve prendere così com'è è un tratto quello della ristrutturazione non modificabile ed è anche il bello di queste case perché sennò uno si sceglie un altro appartamento chiaramente e poi qui abbiamo vedete che si intravede qua sotto questa grata che è un altro aspetto da ristrutturare qui di solito escono i cattivi odori e qui vediamo l'ultima stanza che è l'altro bagno si accede dall'esterno quindi qui in realtà possono accedere tutti è principalmente il bagno dei ragazzi però anche le ragazze vi entreranno perché qui ho messo la lavatrice e l'asciugatrice perché con loro voglio anche fare il bucato ragazzi che è un qualcosa che insieme ancora non abbiamo visto qui c'è la cesta dei panni non mi ricordo credo di averne messa una anche tra l'altro nel bagno delle ragazze di cesta dei panni perché giustamente insomma può essere più comodo qui ci sono degli altri tubi che ci daranno dei problemi di riparazione e questo è insomma il bagnetto poi c'è il gabinetto qui i mobili insomma per mettere la biancheria gli accappatoi dei ragazzi doccia lavandino mobiletto specchio e quindi questa è la nostra nuova casa dolce casa quindi ci divertiremo molto allora adesso la prima cosa che voglio fare con loro è intanto farli venire qui vi ripeto ragazzi oggi sarà un po' una puntata introduzione perché solo per raccontarvi tutte queste novità ci vuole un bel po' di tempo mi rendo conto e quindi vi faccio un po' vedere come si strutturerà la loro vita da studenti adesso andiamo un attimo nel cas così intanto vi faccio vedere i look dei nostri ragazzi di Daniele e Valeria che sono cambiati e cominciamo dal nostro Daniele quindi ci mettiamo sugli abiti quotidiani e come vedete gli ho rimesso i suoi bei capelli ricci un po' sul mosso con questo look un po' un po' piaccione diciamo d'altra parte lui ha anche il tratto sicuro quindi insomma ci sta e nonostante gli abbia cambiato i capelli come potete vedere ragazzi non so se lo vedo solo io ma è impressionante la somiglianza con Michele cioè lui è veramente il ritratto di suo padre forse l'unica cosa gli occhi sono di Simona e magari forse questa parte qui del viso c'ha qualcosina di Simona perché comunque se vedete assomiglia anche a Gabriele però di base il naso la bocca un po' questo taglio qui cioè al di là del colore dei capelli assomiglia tantissimo a suo padre mentre invece Gabriele è a mio avviso proprio il ritratto di Simona di sua madre quindi insomma ognuno ha preso i geni diversi allora comunque questi sono i suoi abiti quotidiani ho conservato sempre un po' appunto delle punte di rosso per lui questi sono gli abiti formali sportivi ecco qua ho tenuto un po' anche ho cercato di fare anche un look più cittadino insomma visto che ora siamo in città di adeguarmi un po' a questo questi sono quelli da notte la maglia si è verde lo so che è il colore di Gabri però c'era la micella aliena e quindi ci stava bene poi i pantaloni glielo ho messi rossi da festa ecco qua il costume da bagno guardate quanto è magro è scheletrico dovremmo rimpinsarlo questo ragazzo perché è troppo troppo secco clima caldo sono quelli che avete già visto vedete sempre un po' cittadino insomma con questa magliona un po' così e le converse e per il clima freddo per lui ho messo insomma un po' quella coppola e questo questo giacchettone così quindi questo è il look di Daniele adolescente adesso vediamo Valeria allora partiamo anche con lei dagli abiti quotidiani quindi ecco qua lei questi sono i suoi abiti quotidiani lei insomma ora la conosceremo meglio vi spiegherò anche un pochino invece cosa ho in mente per lei però insomma vedrete dal suo stile magari già un pochino intuirete quello che è la sua impostazione questi sono quelli formali vedete lei è un po' più fiocchettosa è un po' più così sportivi sì lei adora i fiocchi mi rendo conto che gli ho messo molti fiocchi e fiorellini è un po' così diciamo che lei è insomma abbastanza femminile diciamo nella scelta nei suoi gusti però poi vedrete che insomma ha anche dei tratti più cioè gli farò sviluppare anche degli altri aspetti diversi insomma diciamo non è tutta fiocchettini e unicorni vedrete e questo invece è il pigiama vedete anche qui i coniglietti dopo queste cose qui lei è molto attenta comunque anche alla moda insomma un po' questo stile più più particolare un po' più cioè il suo stile lo definirei perdonate non so se è un termine che si può però è fruffru io non saprei come altro definirla lei sinceramente me la immagino un po' così non so se è una cosa che si dice se è un termine che si può capire però io la vedo così lei però con anche dei tratti più diciamo materialisti che poi vedremo e qui appunto lei ho voluto mettere gli occhiali mentre è in pigiama quindi diciamo che lei porta le lenti a contatto di solito è molto attenta al suo aspetto fisico al trucco insomma molto sempre attenta è molto curata è molto precisa lei e questi sono invece gli abiti da festa che riprendono un po' i suoi abiti quotidiani qui abbiamo il costume da bagno gli ho messo questo costumino e anche il cappello sono bellissimi sono aggiunti con stagioni sono veramente meravigliosi quindi ne ho voluto mettere poi appunto fiocchettino appua insomma è così lei e questi invece è gli abiti del caldo del clima caldo li avete già visti e questi invece il clima freddo vedete lei sono riuscita è l'unica persona a cui sta bene questo cappello qui tutto alto e quindi ne l'ho voluto mettere lei è un po' un po' particolare lei è un po' ricercata ha questo suo stile e andiamo anche a conoscere la nostra gattona la nostra giunta quindi guardate com'è carina questo collarino allora vi presento Priscilla Fires Fires è il cognome che ha preso Laura che ha preso da Sioban quindi Priscilla è proprio la classica gattona d'appartamento l'ho presa già adulta ok lei è la gatta di Laura Laura ha come tratto amante dei gatti tra gli altri gli abbiamo aggiunto proprio quando è diventata adolescente quindi diciamo che questa è una gattona che lei già aveva e che si è portata con sé nell'appartamento a Gabriele non ho fatto portare Kimber perché il cane sta meglio col giardino insomma in appartamento Kimber avrebbe sofferto perché comunque è sempre stata abituata anche se di piccola taglia però anche per portarla fuori insomma sarebbe stata più problematica non vi preoccupate perché poi vedremo chiaramente Gabriele è amante dei cani quindi avrà altri cani avrà altri animali in futuro però finché siamo adolescenti studiamo insomma Kimber poi l'andremo a trovare ce la coccoleremo insomma non ci dimenticheremo di lei anche perché comunque torneremo dai nostri Simone e Michela non è che li abbandoniamo come vi ho detto anche con loro in questa nuova fase adulta ho tante idee e tanti progetti quindi non vi preoccupate vedremo tutto 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 comunque tornando alla nostra Priscilla sto divagando allora come dicevo lei è una gattola d'appartamento allora lei è un gatto delle foreste norvegesi quindi ha questo bellissimo pelo lungo lei è tutta pelo è troppo bella quindi è ovviamente morbida perché è tutta pelosa quindi spellerà dovremo avere cura di spazzolarla eccetera è pigra proprio una gattola d'appartamento lei passerà il tempo a dormire ed è affettuosa quindi ama tanto le coccole è una coccolona che si vuole far viziare sul divano è proprio la classica gattola d'appartamento e anche se noi avremo topi certo lei non si preoccuperà di andare a cacciarli sarà proprio l'ultimo dei suoi problemi lei penserà solo a mangiare e a dormire e a farsi fare tante coccole vero bella? ecco qua quindi lei è la nostra gattona che poi insomma è la gatta di Laura poi vi faccio anche vedere perché anche a Laura e a Gabriele ho aggiunto gli abiti estivi e da clima freddo cioè a Gabriele quelli di Gabriele ve li avevo già fatti vedere non vi ho fatto vedere quelli di Laura quindi quelli da clima caldo li avete già visti insomma ce li aveva indosso e questi invece anche qui vedete anche questa è un'aggiunta di stagione insomma ho usato molto questi vestiti nuovi e clima freddo lei è più così più particolare con questi begli stivaloni di pelo che sono stupendi quindi questi sono i nostri ragazzi pronti per intraprendere questa nuova avventura quindi usciamo e andiamo in modalità vivi ok eccoli qua tutti schierati e allora io direi che adesso la prima cosa da fare è far cercare a tutti questi ragazzacci un lavoro perché loro dovranno studiare ma dovranno anche pagarsi l'affitto da soli perché non è che c'è sempre mamma e papà che gli può pagare tutto cioè in realtà volendo sì però non sarebbe divertente quindi gli facciamo trovare un lavoro allora scout me lo mette come una carriera questo è interessante allora con Gabriele e con Daniele volevo fare allora vediamo un attimino questo qui perché voglio vedere un attimo gli orari e i giorni di lavoro allora vediamo impiegante del fast food quindi perché volevo fargli fare non un lavoro di quelli da fare nel fine settimana perché magari il fine settimana cioè ce ne andiamo fuori a divertirci oppure facciamo i pranzi a casa in famiglia insomma quindi voglio farli lavorare e fargli coincidere il lavoro più o meno con quando vanno a scuola insomma in modo che poi quando sono liberi sono liberi e possono fare altre cose quindi per loro impiegato del fast food quindi allora va bene guadagno un po' di dinero da spendere servendo cibo alle persone che conosce oppure l'anno dopo che sono andate via per qualche tempo quindi stiamo assumendo un friggitore quindi prendiamo 18 si mollino l'ora wow siamo ricchi dalle 17 alle 21 bello questo è un bello impegnativo quindi avremmo libera la domenica e il lunedì quindi lavoreremmo dal mercoledì al sabato va bene ci sta perché comunque alla fine anche se vogliamo fare qualcosa il fine settimana ci avremo comunque il sabato il giorno libero oppure dopo le 21 se vogliamo uscire andare a ballare e fare qualcosa possiamo farlo e poi abbiamo la domenica di riposo va bene allora io direi per loro questo perché vedete il lavoratore manuale lavora solo il sabato e la domenica cioè io voglio guardare un qualcosina tutti i giorni è vero che si guadagna di più proporzione però cioè non mi piace quindi e così come anche babysitter è solo il fine settimana idem quindi le nostre carriere papabili sono queste tre quindi impiegato del fast food vai perfetto Gabriele lavora ora come friggitore presso uomo hamburger ok prima di fare con gli altri volevo farvi vedere una cosa per esempio Daniele infatti è questa la cosa che avevo notato è che lui glielo conta come scout cioè gli ha tenuto la carriera di scout e quindi il motivo per cui non vedevo cliccando quando avevo fatto la prova non avevo visto che appunto come adolescente come bambino mi diceva fai attività extrascolastica nell'adolescente non mi dava attività extrascolastica perché praticamente veniva considerato direttamente dentro le carriere quindi secondo me se vogliamo fare un lavoro remunerativo mi costringerà a lasciare la carriera di scout ho questo timore però non importa poi la la finiremo di approfondire anche con qualche altro sim abbiamo comunque raggiunto un buon livello abbiamo insomma un pochino giocato visto come funzionava io direi che possiamo anche ritenerci comunque soddisfatti così quindi vediamo un pochino che succede quindi cerca un lavoro oh Priscilla è una gatta affettosa amore le piace seguire i padroni in giro per la casa bellina ok ce la facciamo ah e con lui invece non mi dà la carriera di scout vediamo magari me la tiene io gliela farò penso comunque lasciare nel caso però vediamo Daniele deve cambiare lavoro eh infatti deve cambiare lavoro diventando friggitore accettando il nuovo lavoro abbandonerà la posizione attuale di scout dei Pegaso eh ragazzi il tempo degli scout è finito quindi diventiamo lavoratori del fast food che avanzamento di carriera strabiliante ok lascia la carriera di scout Daniele lavora ora come friggitore presso Womamburg inizierà mercoledì le 17 chiaramente appunto queste sono carriere adolescenziali però come vi ho detto Gabriele aprirà la sua clinica veterinaria e quindi studia per diventare veterinario e invece Daniele studierà e ve lo dico ufficialmente se ancora non si era capito ma penso che ormai si fosse capito ampiamente Daniele diventerà intraprenderà quando sarà adulto la carriera di astronauta e quindi lui adesso sta studiando per diventare astronauta ok adesso pensiamo alle nostre ragazze allora vai Laura perché Laura si occuperà di giardinaggio creerà creazioni composizioni floreali appunto così vedremo anche come funziona questa cosa quindi guadagneremo qualche studione anche così però mi sembra giusto che anche lei vada a lavorare perché li voglio proprio spremere come limoni questi ragazzi sono sono in vena così allora vediamo un po' ok per Laura io avevo pensato la carriera di barista perché comunque lei quindi si dedicherà al giardinaggio però sarà comunque appassionata anche si dedicherà comunque le piacerà a cucinare le piacerà comunque anche l'abilità di cottura al forno tutte queste cose qui quindi diciamo che tutta la parte più cioè la carriera di barista mi sembra quella un pochino più attinente con il suo in questa in questa fase appunto cioè si ha di frequentare la caffetteria no c'è brioche insomma tutte queste cose qui e conosci già tutti i nomi fantasiosi delle bevande perché non ti fai pagare per questo poi vediamo magari insomma si dedicherà anche un pochino alla mixologia insomma vediamo un attimino però le piaceranno un po' questi aspetti più legati comunque alla cucina alle bevande a queste cose qui quindi stiamo assumendo eliminatrice di macchie di caffè lei fa un orario veramente bello dalle 5 di mattina alle 7 di mattina e poi bella fresca dopo un paio d'ore di lavoro andrà a scuola a studiare insomma scuola università insomma quello che vogliamo e lei proprio dal lunedì al venerdì perfetto vai ok quindi ora Laura lavora come eliminatrice di macchie di caffè presso lo spumeggiante schiumoso e inizierà mercoledì alle 5 meraviglioso quindi comunque cominciano tutti domani perfetto Valeria invece la voglio fare commerciante al dettaglio eh sì voglio proprio farla lavorare in un negozio lavora per il futuro avviando una carriera nelle vendite potrai ottenere vantaggi sconti e preziosi simoleon creando esposizioni e conquistandoti la simpatia dei clienti e anche lei riposa lunedì e domenica e lavora dalle 18 alle 22 quindi più o meno i suoi orari di lavoro coincidono con quelli dei fratelli giusto Laura è invece completamente diversa ma con lei va bene perché con Laura appunto col fatto che voglio lavorare sul tavolo di creazioni voglio dedicarmi alle piante eccetera almeno poi abbiamo quando torniamo da scuola abbiamo anche tempo per fare queste attività mentre gli altri li mandiamo tutti a lavoro mi sembra giusto quindi te commerciante al dettaglio e quindi se con Laura da adulta voglia appunto intraprendere la nuova carriera di giardinaggio introdotta con l'espansione delle stagioni quindi Laura sta studiando tutta la parte relativa alle piante quindi studia botanica agraria un po' queste cose qui legate comunque al giardinaggio Valeria invece il sogno nel cassetto di Valeria da grande è di aprire un negozio tutto suo diciamo per ora di abbigliamento poi più avanti vedremo che in realtà non sarà soltanto di abbigliamento però comunque lei ha come sogno quello di aprirsi un negozio quindi lei studia più marketing tutte queste queste robe qui e anche un pochino di moda perché comunque le piace l'ambito della moda ma non solo perché con lei poi come hobby svilupperemo un'altra abilità che apparentemente con lei non c'entra assolutamente niente e che sarà anche tra l'altro una passione che avrà in comune con Daniele comunque allora io vorrevo vedere ora per concludere vi ripeto questa è un po' in realtà una puntata introduttiva perché ho chiacchierato tantissimo avevo tante cose da farvi vedere quindi probabilmente entreremo poi davvero nel vivo del gioco penso nel prossimo episodio comunque non ho finito perché allora volevo andare a vedere intanto il calendario se c'è qualcosa di particolare o per esempio domani c'è la lotteria quindi questa effettivamente è una cosa interessante è un qualcosa esatto questi sono quelli non programmabili che compaiono ogni tanto nel gioco quindi ci hanno messo questa giornata della lotteria e questa può essere interessante anche un po' di soldi ci fanno comodo ok agenda di lavoro scuola guardate qui bella piena tra studio e lavoro va bene ecco sì ecco sì va bene quindi questa interessante la possiamo vedere subito e poi l'altra cosa che volevo fare volevo guardarmi un attimino intorno perché è estate e ogni quartiere in base alle stagioni ha delle cose suoi particolari quindi vediamo un pochino se c'è qualcosa di interessante inerente alla stagione steva qui a San Maishun anche perché voglio vedere anche com'è il clima qui non è male nuvoloso oggi variabile domani c'è il sole non ci sono neanche temperature particolarmente bollenti quindi insomma sembra un clima più decente rispetto alla nostra piovosa Newcrest e qui comincia l'autunno la domenica e c'è un bellissimo punto interrogativo e poi una giornata di pioggia bellissimo molto bene allora vediamo un po' però io vi dirò non vedo cose particolari vedo un chioschetto che però è quello questo cos'è cibo penso messicano se non sbaglio sì perché c'è un burrito e questo è un un banchino di ortofrutta che in effetti può essere interessante per Laura per acquistare qualcosa quindi magari questo lo possiamo anche fare e però non vedo piste non vedo cose particolari forse perché qui non c'è abbastanza spazio magari nelle prossime stagioni comparirà qualcosa di più interessante però che peccato mi aspettavo qualcosa di più devo dirvi la verità in effetti e questo comunque è il nostro bellissimo quartiere delle spezie che io adoro perché c'è tutto il festival delle spezie insomma il mercatino delle pulci è molto molto vivace come quartiere questo ci sono anche personaggi insomma anche vicini interessanti proprio quel il quartiere più più vivo secondo me più verace anche di di San Maishuno se vogliamo va bene comunque l'ultima parentesi poi ho finito con le introduzioni che volevo farvi vedere è per quanto riguarda le aspirazioni allora quelle di Gabriele e di Laura sono confermate allora Gabriele ha l'aspirazione di Amico degli Animali che sarà durissima da compiere perché c'è un sacco di dobbiamo conoscere un sacco di animali fa un sacco di cose con Laura confermo invece Botanista Indipendente per i motivi che appunto vi ho già spiegato con Valeria con Valeria avevo messo un'aspirazione molto a caso quando l'ho fatta passare di età ci ho pensato su bene insomma ci ho ragionato eccetera e alla fine ho deciso di fare un qualcosa che non sarà attinente in realtà né con la carriera né con niente a lei ho messo progenie di successo che è un'aspirazione che in realtà io non ho mai giocato particolarmente quindi volevo fare qualcosa di diverso poi la vedremo insieme quando più avanti quindi avremo avremo dei figli che non è quella legata alla all'abilità di genitorialità è un'altra aspirazione questa che poi vedremo e qui siccome quando gliel'ho impostata lei era ancora nella casa vecchia mi ha già spuntato spendi mille oggetti mille simole in oggetti per bambini anche se in realtà perché non era già chiaramente li ho fatti traslocare ora quindi io quando gliel'ho impostata lei era ancora nella sua vecchia unità familiare e quindi mi ha spuntato questa e non si può annullare però vabbè pazienza comunque poi per correttezza spenderemo comunque mille simole in oggetti per bambini quando sarà adulta quando avrà una famiglia eccetera eccetera quindi poi scopriremo comunque questa aspirazione con tutte le sue pietre miliare la vedremo nel dettaglio quando abbiamo dei bimbi comunque i primi due la prima pietra miliare bisogna spendere mille simole in oggetti per bambini e diventare un simo adulto quindi appunto la vedremo poi più avanti con Daniele gli ho confermato cervello nerd che però non vedremo subito in realtà gliela cambierò perché durante questa adolescenza con lui volevo sviluppare un'altra aspirazione che però a questo punto vi rivelerò nel prossimo episodio perché voglio lasciare con un po' di suspense diciamo così quindi poi gli metteremo cervello nerd perché comunque è perfetta per lui perché come vedremo svilupperà sia la missilistica che la manualità che sono comunque abilità che gli serviranno se non sbaglio anche proprio per la carriera di astronauta però la vedremo vedremo non partiremo con questa partiremo con un'altra aspirazione che vedremo nel prossimo episodio e quindi io direi che per questo episodio perché sto vedendo che ho già parlato tantissimo come al mio solito diciamo che è stato un po' una intro per le miraviolanti avventure che aspetteranno a questi a questi poveretti che farò faticare tantissimo quindi però insomma era un po' una puntata chiacchierata dove appunto vi facevo vedere un po' tutte le novità che ci sono e quindi io praticamente staccherò questo episodio avvierò subito a registrare quello successivo e riprenderemo praticamente subito da qui proprio con i nostri ragazzi e quindi li vedremo finalmente in azione quindi insomma vi ho praticamente inondato sommerso di novità e di cose da vedere davvero non vedevo l'ora di giocare con questi ragazzi cresciuti perché era un'idea che mi frullava in testa praticamente da quando loro erano erano bambini e non vedevo appunto l'ora di giocare con loro comunque io per questo episodio mi fermo qui spero appunto di avervi un po' stuzzicato la curiosità spero che questa comunque idea diversa di adolescenti e studenti fuori sede vi sia piaciuta possa essere interessante io sono molto emozionata perché comincerò finalmente appunto a giocare con più unità familiari e spero di non incasinarmi troppo con le linee temporali quindi mi fermo davvero qui spero che comunque vi sia piaciuto questo episodio come sempre fatemi sapere sono assolutamente curiosa di sapere cosa ne pensate di queste news quindi datemi feedback commentate fatemi sapere e niente noi ci vediamo quindi alla prossima puntata ciao a tutti ragazzi